buongiorno a tutti i cavalloni sono di nuovo qui a milano con 75 gradi celsius tipo e dove diavolo sto andando tipo in cina what ok cosa sta succedendo gioco perché ti sei vestita come claire per per trollarmi per farmi pensare che ci fosse claire invece non era vero poi sei figa starmi simpatica e sei figa col cazzo che ecco ecco magari magari potevo riconsegnarti sembra che si sembri proprio essere tu a portare sfiga elena però ti sei vestita come claire quindi un po guarda un po te la perdo oh mio dio così in 30 secondi bam infetto bam mostro gigante what oh shit oh shit qui non va bene le ho le ho un cazzo facci piano con le battute da film dell'azione oh mio dio fucking merda hai fai una ricerca un po in fretta dove sei oh merda lol non mi hai preso lol dove sei ele o cazzo cazzo ele levati grazie anigan fammi una ricerca veloce velocina cosa è questo caso oh hey lightning hawk lightning hawk un falco del fulmine lightning hawk ele ele ti giuro ti ammazzo con le mie mani ele mi sono fatto male da solo perché così perché gli ho sparato e mi è venuta paura dopo avergli sparato giustamente qui posso fare qualcosa no non sembrerebbe a parte prenderla in culo culo tra l'altro culo a cui sparo vieni vieni ciccio ciccio merda ciccio qua oh merda ok ok a posto no non è a posto non è a posto un cazzo no no non c'è niente di a posto raga si cos'è ah stiamo morendo dici 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 che qualcosa non va davvero non sarà un mostro che gira come uno stronzo in giro per tutta la il cazzo di aereo no 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 qualcosa non va hai ragione hai ragione non va perché ho il dual wielding non voglio il dual wielding ehi tu ciccio posso aiutarti no era un sì o no era un no ok ciao allora andiamo via allora fammi vedere qui dove cazzo devo andare niente di qua voi tutto bene siete a posto si ok tranquilli wow questa business class è un monolocale tra l'altro andiamo andate ai vostri posti e restateci ma sono già ai loro posti Elena che cazzo dici guarda la business mi lascia mi lascia un po' desiderare qua invece cosa abbiamo un'erba verde che ovviamente non posso prendere perché perché ho tutto aspetta un secondo no niente perché ho tutto l'inventario puttane bene perfetto what stai calma Elena stai calma che c'è roba questo non è niente no non è niente va bene boom bitch niente nessuno nessuno ha impressionato ma guarda questo guarda questo è first class no quella di prima era first class questo è business però guarda quanto spazio per le gambe questa non succede nei voli Ryanair aia qui cosa abbiamo un'altra erba verde che non posso usare perfetto cosa butto raga cosa butto calibro 12 per cosa sono per il ma non possono dire colpi del fucile colpi di sto cazzo vabbè sono quattro quindi direi che posso anche buttarmeli in culo ciao si buttiamoli vieni erbetta che ti combino con l'altra erbetta oh merda l'ho messa nel coso porca troia che scemo l'ho messo nel porta compresse vabbè troverò un'altra erbetta voglio sperare rossa magari c'è altro qui tipo questa scatola oh si 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 guarda qua oh le 5000 punti abilità e qui c'è anche un coso ok va bene ele ele dobbiamo cosare qua sei proprio vestita da cagnetta versione claire da cagnetta non male ele brava 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 a seconda il bisogno di fanservice della mia fanbase vai ele che è anche mio il bisogno di fanservice a dire proprio mamma mia si bello bel costume ele complimenti sono lo approvo lo approvo lo approvo tantissimo qui cosa abbiamo ah devi aiutarmi addirittura ah si perchè sembra eh già eh già sembra proprio di noi a verità ok allora facciamo che ti sparo in dual wielding vai oh merda cosa sta facendo cosa stracazzo sta facendo porco zio porco zio eh grazie al cazzo ele se mi dici come ah di lì ok ok allora io lo distraggo anzi distrailo tu porca troia che brutta vita che brutta vita la mia ok lo distrai tu bene dai portello oh ma è facile questa vai ce l'ho ce l'ho ce l'ho si ce l'ho via ok ok poi oh e vai siiii vai così vai così che stiamo morendo vai stiamo andando benissimo invece ho di nuovo salvato la giornata è incredibile sti quick time event madonna giganteschi fatemi li più grandi oh merda ok ce l'ho fatta non mi aspettavo roba ma come cazzo si arrampica poi ragazzi tum 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 cioè quella non è un'animazione di arrampicata cazzo Capcom impegna di un secondo dico un secondo con tutti i cazzo di programmatori che hai lì impegnati un secondo aspetta 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 c'è la roba qua che non ha guardato un cazzo no no ok andiamo alla cabina di pilotaggio ele vai vieni cosa cazzo c'è oh merda oh fuck what smettila eh smettila subito madonna ma stiamo scherzando ok dual wielding vai vaffanculo raga vaffanculo tutti dual wielding tutta la vita adesso mi rimetto a fare a fare kung fu fighting perché perché everybody was kung fu fighting ragazzi mi stupite non sapete le le basi le basi ragazzi le basi what boom 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 e boom what boom e dai e dai vai questo cazzo di porco zio io non ci credo io non ci voglio credere che ha fallito così miseramente tutto quanto bella ho fatto saltare la testa malissimo povedino ciccio vieni ah vai da elena puoi morire grazie e non c'ho più stamina c'ho la stamina puttana veramente se la riprendi Leon grazie la ripresa uh ehi che è io quante munizioni ho di quella roba lì che sarebbe penso fucile a po no no questo fucile d'assalto eh ok andiamo questa mi mi trolla secondo me mi trolla no non mi trolla se mi trollasse secondo me mi trolla dopo abbastanza certo che mi trollerà quella no invece no perchè ho chiuso proprio la porta what bottiglie in low res ecco perchè non dormo in aereo cazzo le bottiglie di Metal Gear Solid 2 erano fatte meglio Capcom seriamente impegnati due secondi due secondi dico davvero due secondi con tutti i programmatori che hai lì cazzo potresti impegno what the fuck what oh fuck sono caduto sono caduto come una merda rai scusatemi preso ok smettiamola di cadere come una merda qui dietro c'è qualcuno c'è qualcuno no non c'è nessuno allora andiamo avanti yes beh le eh tipo potrebbe esplodere dai fammi guidare l'aereo vai andiamo che spacco sempre di brutto a guidare gli aerei oh merda prima spegni il pilota automatico e attiva i comandi manuali what poi premi il terzo pulsante della quarta fila nel pannello in alto cosa stai dicendo cosa devo fare ok no fermo fermo 1 2 vai poi ok ci sono ce l'ho vai la sto tirando ci vuole sforzo per tirarla no certamente ci vuole sforzo per tirare una cazzo di leva ok mentre ci sono tutti gli zomboni che mi stanno per uccidere ora Hannigan ok Leon è un aereo dovresti saperlo come si fa volare un cazzo di aereo non mi colpire non mi colpire zombo grazie ho salvato la giornata come sempre come sempre così così eida così così che mi saluta a cavallo di una metropolitana be parcheggio perfetto no però noi non siamo esplosi giustamente abbiamo il fuoco tutto attorno ma noi tranquilli usciamo va bene anche tranquilli almeno zoppico no per due secondi ho zoppicato due secondi poi tutto a posto wow Rebecca ah sherry scusate non ha visto i capelli biondi ho saputo che sei un agente e tu cosa ci fai qui? seguo il colpevole di tutto questo il capo della sicurezza Simons cosa? ci deve essere un errore io sono agli ordini di Simons bene stiamo andando da lui proprio ora dove si trova? che lo ammazziamo j devo sapere ma che cazzo sei Jake? la furia? perché mi sembri tanto il tizio di Prison Break devo avessi l'ordine di evitare contatti con chiunque Leon non è una persona qualunque mi ha salvato la vita a Raccoon City e va bene Jake ma che cazzo sei? oh mio dio Jake aiutami Jake sei morta sherry ok bei riflessi Jake complimenti oh mio dio esplode pure nice meno male che abbiamo qualcun altro che ha l'invincibilità della trama quanto pare chi cazzo sei? Nemesis 7 è un amico tuo? è una specie di ex non sa quando mollare il colpo what? benvenuto nel club Jake ma chi diavolo sei? cioè vedrai ci si fa in caldo aspetta è il figlio di Wesker? non mi ricordo attenzione al braccio ah il braccio dici non le 700 cose che spara col braccio oh mio dio via oh bella boss fight bella boss oh mio dio che cazzo è? che range ha? dicevo dicevo bella boss fight idiota alla Left 4 Dead ma io lo colpisco così random non ha punti deboli non mi pare almeno sherry sherry dove sei? ah sei lì? ah te la scappi eh ti ho fatto paura stronzo dillo dillo che ti ho fatto paura andiamocene da qui ok no worries ehm questi però li posso distruggere eh ho sbaglio sì quindi dovrei potere anche salirci sopra e infatti sì vediamo oh yes vediamo cosa c'è qui dentro uh munizioni munizioni un esplosivo e basta niente uh posso scappare anche di qua bella questa avrei potuto notarlo prima ma sono cretino e non l'ho fatto ehm cos'ho un alimentario che mi blocca questo esplosivo di merda eh ovviamente buttiamolo buttiamolo e mi prendo l'erba verde questa volta no anzi questa volta è un cazzo fermo fermo vediamo un po' cosa cosa posso fare da qua se posso andare da qualche altra parte non sembrerebbe quindi fa un culo me ne vado giù questi potevo farlo esplodere ehm è una boss fight abbastanza studiata tutto sommato cioè studiata minca ci sono due cose ehm si voi aspettatemi lì eh non non fatevi e lì e lì dentro? ah no non è niente è una macchina sono io che sono scemo questo lo devo schiacciare immagino si perchè non ci sono altri punti punti di fuga dai andiamo ah no in realtà no questo che faccio così e me ne vado su di qua poi salto di la mi prendo tutti gli oggettini oh che bello loot 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 di nuovo cioè c'è dei loot qua minchia quanta roba c'è cos'io mi sta riempiendo di stronzate no vabbè di cazzate da 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 nulla beh io sbatto giù queste anche se non penso che mi servirà mai adesso che sono di qua e di là invece come ci salgo raga? fammi vedere qua non c'è un cazzo qua neppure qua neppure no di qua non so come salirci però magari dopo mi sposta qualcosa vabbè io vengo lì con voi eh sherry dimmi sherry sai quel che fai? perchè non lo so ecco vediamo se sai quel che fai non sembra non sembra che sai quel che fai oh sono con sherry vai oh yes per capire cosa esattamente sherry i zombie che stavano per ucciderti e ammazzarti dietro ogni angolo quello si che era difficile da capire eh bisogna essere vecchi per capire bisogna essere grandi per capire quella roba cos'è? ah beh si ah ok pensavo per un attimo pensato che lo avrebbero spinto in due posso riparare sherry mettiti al volante si cosa sai mckyver con cosa a lui pari? con la magia guardate la magia della prestidiri bi-biri- Crown la magia del quick time event l'ha riparata ok wow sherry stai buona sherry ce l'hai la patente vero no perché io ti ho dato in mano un da guidare un coso senza in effetti chiedermelo se avessi qualche tipo what quello mi spara the fuck puttana che male che gli ho fatto puttana raga che male che gli ho fatto sherry gli ho fatto malissimo dove vai vigliacco minchione dove vai oh merda ok si è staccato il braccio ah aveva lì aveva lì l'artiglio cioè al suo deposito lì bello è preparato e anche lì non è stupito dal fatto che si porta dietro i cambi che cazzo è oh scusate ehm speravo stessi esagerando sì anch'io purtroppo no ma non significa che gliela tremo via ok eeeh hai un piano Jake hai un piano vero Jake 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 non mi hai risposto quando ti ho chiesto se avvi un piano quindi immagino di no oh merda no ciao 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 ciao